Ecco Mass Muscle Messicano mascherato Lui picchiandolo tanto in pancia se avete fortuna riuscite a buttarlo giù in due round Esattamente così Perfetto Vedete ha trattato di sputare però basta evitarlo abbastanza facilmente Purtroppo quella lì quella combo lì è un po' difficile da evitare quindi abbiate solo pazienza Ultimo round Molto semplice perché l'energia è rimasta molto poca dopo il primo round l'energia è molto più bassa quindi abbastanza semplice Pugni tirati molti di più rispetto agli altri perché il primo round insomma ne ho tirati parecchi un totale di 27 30 pugni Ancora record un'altra vita ottenuta ci vediamo al finale con l'energia